Terremoto al Palio dei Mici di Querceta, la Commissione Etica ha infatti annullato la vittoria della contrada del Ponte, ribaltando quanto deciso nelle scorse settimane dalla Commissione Tecnica della Proloco di Querceta, che aveva analizzato i filmati dopo la denuncia da parte delle altre contrade di irregolarità da parte del Fantino Augusto Vargiolu, senza però pronunciarsi in merito. Ma l'analisi dei filmati, anche amatoriali della corsa, hanno convinto la Commissione Etica a prendere una decisione opposta, anche alla luce della dura replica delle contrade, che avevano annunciato la rinuncia alla partecipazione a qualsiasi manifestazione organizzata dalla Proloco. E il pugno della Commissione Etica è stato particolarmente duro. Dieci anni di inibizione al Fantino, reo di aver usato un pungolo per spronare il miccio, pratica severamente vietata dal regolamento, e quattro anni di inibizione a ricoprire cariche nelle manifestazioni del Palio dei Mici, al presidente della contrada, Francesco Sarti. Un terremoto, come detto, che sicuramente avrà strascichi importanti nei prossimi giorni. Grazie! 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 Grazie!